Hola, bienvenido, bienvenido, io soy Giovanni e in questo video ti voy a mostrare come convertir un video di un formato nuovo a un formato MP4 usando un servizio gratuito chiamato Online Video Converter. Puedes accedere al servizio del sito www.onlinevideoconverter.com L'errore del servizio lo vas a incontrare nella descrizione del video. Esta è la ventana iniziale del servizio. Allora, prima di cambiare il sito, facendo clic in questa flecita, e poi vas a elegire il idioma che vuoi. Io lo mettiamo in spagnolo, ok. Poi, faccio clic nel botone Subir, ora, in correspondenza del area Subir e Convertir un archivo. Asi come ti sto mostrando. Da questa area, faccio clic nel botone Subir un archivo. Ora, busca in tuo computer il video che vuoi convertire. Una volta che lo hai elegito, lo seleccionas e poi faccio clic in Abrir o faccio clic in Abrir. O, direttamente, double clic suave il video. Asi come ti sto mostrando. Ora, espera che il video si cargue nel servizio. Voy a quitar la registrazione per activarla quando la operazione sta terminata. Bien, vediamo pronto. Ciao, ciao. Una volta terminato, ora tenemos che elegire il formato di salita. Quindi, haces clic in questa flecita e vas a erigirlo e vas a ponerlo in MP4. Ok. E nel final, haces clic nel botone Convertir. Ora, espera che il servizio termine l'operazione. Una volta terminato, vamos a procedere con la descarga del nuovo video. Quindi, haces clic aquí nel botone Descargar. Ora, busca in tuo computer la posizione dove vuoi guardarlo. Darle un nome. E nel final, haces clic in Guardar. Ora, espera che la descarga termine. Ok, una volta terminato, hai solo che abri il nuovo video per vedere se stai satisfecho del risultato. Mi sembra un buon servizio, molto facile, soprattutto gratis. Se hai problemi o dubbi, puoi tranquillamente scrivermi. Io vorrei a respondere a tutti. Por ora, te saluto. Que tengas un lindo dia. Buona notte. Ciao.